Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un video aggiornamento per quanto riguarda il glitch dei soldi da fare da solo Allora io qui quando ho girato il video erano le 18.40 quindi comunque ancora funzionava quindi suppongo funzioni ancora adesso non è molto che l'ho girato questo video Allora per fare questo glitch abbiamo bisogno della vendor, la base operativa con l'auto che vogliamo duplicare dentro E' un amico che sta giocando in un'altra sessione e noi dovremo essere nella modalità di puntamento manuale Comunque vi lascerò anche il video perché questo sta un pochino in velocità ragazzi se non ce la fate a seguirlo Guardate il video originale, fra un po' non ce la faccio manco io a commentarlo per quanto è veloce Invece il playstation network è scandalosissimo perché non carica gli amici comunque va bene Paghiamo questi 60 euro l'anno e siamo tutti più contenti ragazzi Allora una volta che avete trovato un amico preparatevi l'invito, non l'invito, quella partecipa che avete visto Io qui lo faccio due volte perché ho la connessione lenta A questo punto vi avvicinate alla porta della cabina della vendor, fate partecipa, entra e poi partecipa In pratica, fate per entrare nella cabina e poi fate partecipa Accettate il primo messaggio e schippate il secondo Cercate un'attività in mappa vicino al vostro garage, schiacciate quadrato e ci entrate Anche se vi chiate di essere l'host, entrate come host Una volta che siete dentro, doppio tasto PS, rifate partecipa, accettate il primo messaggio E schippate il secondo, con cerchio schippate il secondo Entrate nel vostro garage, ragazzi io qui entro nell'attico 2 Dove avete le vostre LG normali, io qui ne ho due di LG normali come state vedendo E uscite con la LG normale Allora, alcuni mi dicono che hanno problemi, quindi aspettate che sentite il motore che arranca, ragazzi E poi date di retromarcia Vi farà questo bug, vi troverete nella base operativa Entrate nella base operativa E sostituite la LG con l'auto che volete duplicare, ragazzi Ripeto, ve lo sto spiegando molto molto velocemente Però vi lascerò anche il video in schermata finale Ve lo lascio nella scheda, in descrizione Dove farà poi, ragazzi Allora, una volta che siete entrati dentro Sostituite con l'auto che volete duplicare Io in questo caso avevo una LG Retro Custom fatta apposta per l'occasione, ragazzi Vi faccio vedere nel pallino azzurro che la LG Retro Custom è diventata per il gioco una LG RH8 Ma in realtà noi continuiamo a vedere la LG Retro Custom Quindi, a questo punto, andiamo a prendere la LG Retro Custom E usciamo dalla base operativa, ragazzi Notare la targa, mi raccomando Questa è targata a fanculo Quando usciamo dalla base operativa, la targa cambierà A questo punto, per rendere effettivamente nostra questa auto Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo salvarla E per salvarla, che cosa si fa? Vi allontanate un pochino dalla vostra base operativa Chiamate il centro operativo mobile E rimettete l'auto nel centro operativo mobile Che deve avere una LG RH8 dentro, ragazzi Adesso io andrò a farvi vedere anche che c'è una LG RH8 dentro Quindi vado per comprare, giusto per farvi vedere che c'è una LG RH8 Centro operativo E come vedete c'è già una LG RH8 dentro Quindi mettete l'auto nel centro operativo E il gioco è fatto, ragazzi E avete salvato l'auto Dopodiché uscirete dal centro operativo Vi spawnerà in centro città Ovviamente a me spawna sempre qui Però penso che a più di qualcuno spawna da queste parti E io vado a mettere l'auto nell'attico 1 Perché non ho più bisogno di duplicare E anche per farvi vedere che il clone Quello che abbiamo sotto il culo, ragazzi Diciamo è stato duplicato Anche perché l'originale è venuto a finire dentro All'Eclipse Tower Attico 1, ragazzi Attico 2, scusate, mi sono sbagliato Va bene, detto questo Ho fatto il Tour de France Per commentare questo video Per aggiornarvi Aggiornarvi Un saluto a tutti Al prossimo video Ciao a tutti Ma che ne sono le due mira Wow Ciao a tutti